Ecco qua, una confezione con due bellissime bottiglie in stile vecchia farmacia, in una scatola che le protegge come in mano per il trasporto, Amerigo ci propone due a mani, il Fernet e la Chinachina. Il Fernet è prodotto con una ricetta antica con radici di zenzero, radici di genziana, ravarbaro, aloe, tutti ingredienti naturali per un prodotto di grandissima attualità nella moda del barman dei cocktails in questo momento. Adatto sia dopo cena con un po' di acqua calda, una scorza d'arancio come digestivo oppure come correzione in un caffè oppure anche servito fresco, appunto ghiaccio, limone, una scorza di zenzero per un aperitivo veramente molto gradevole. Stessa cosa per la China, conosciutissima per il suo potere digestivo con un po' di gin, ghiaccio, bacche di ginepro, si può fare un cocktail di grandissima attualità e veramente molto gradevole. Quindi due bottiglie in una confezione straordinaria per un regalo molto originale per questo Natale. Grazie a tutti.